Ok, il bis è finito, abbiamo chiuso. Adesso però facciamo una storia nuova, nuova location, lo sapevi, sapevi qualcosa? No, no, non lo sapevo cazzo. Ma è possibile che non sai mai niente? Cioè, guarda che storia. Nuova location, ora ti faccio vedere il teaser. No, ecco tu. E non hai capito? Qual è che faccio proprio un casino a una donna? Guarda, guarda. Ascensuali Loomit Cineletra Nafinax Cineletra Cineletra